buongiorno a tutti bentornati nel mio canale o benvenuti se siete nuovi iscritti oggi parliamo di lei la regina bastarda allora il vlog voglio intitolarlo la regina bastarda ieri oggi e domani ma andiamo con ordine la regina bastarda apre il suo canale nel 1900 scusa regina nel 2017 cioè quattro anni fa inizia la sua carriera su youtube come utente utente molto affezionata dichiara d'alessandro con cui riesce addirittura ad incontrarsi personalmente in quel di napoli in occasione della traversata biblica da torino a canosa di puglia quando chiara accompagnata da marco dito partì da torino da milano dal posto in cui stava per andare a riprendersi il suo romeo e cioè giuseppo lo troppo viaggio della speranza finito male ma comunque ce ne frega poco e niente dato che non è l'argomento di oggi del vlog dopo l'incontro regina bastarda chiara d'alessandro ci fu un momento buio anche perché le due ebbero a discutere a seguito di determinate dinamiche che ora io non sto qui ad elencare ma comunque iniziò una decadenza dell'ammirazione da parte di regina nei confronti di chiara e quindi dei veri e propri attacchi a cui comunque chiara ha risposto in più riprese senza mai tirarsi indietro su youtube la regina bastarda poteva fermamente contare su delle amicizie storiche amicizie che poi nel corso del tempo man mano si sono sgretolate però parlando da spettatore credo che a seguito di quella scissione sia la regina bastarda che quelli che erano ai tempi i suoi amici ne hanno colto solamente dei benefici perché con il soccombere del gruppo è emersa la loro individualità e questo era quello riguardo a ieri ad oggi la regina bastarda ha un canale con contenuti che definirei tipo un diario di bordo nel senso che ci riporta quella che è la sua quotidianità di donna di mamma di tutte le difficoltà quotidiane in cui si può incorrere crescendo un bambino da sola a un canale con oltre 13 mila iscritti che neanche nei momenti più bui della sua carriera youtube l'ha mai abbandonata e queste credo già siano due motivazioni forti per cui delle persone la invidiano tanto e cioè il fatto di aver raggiunto un bel traguardo a livello di iscritti e soprattutto il fatto che i suoi iscritti non la lasciano neanche nei periodi bui c'è un affetto costante e continuo nei suoi confronti è una donna molto semplice ed umile ed io lo so per esperienza personale perché tempo addietro quando non avevo ancora attivato questo canale ed ero semplice utente le scrivevo di tanto in tanto su instagram e lei puntualmente rispondeva con carineria e gentilezza sebbene non sapesse neanche chi io fossi quindi oggi ci ritroviamo una giovane e bella mamma perché è una bella donna la regina bisogna dirlo di un bambino speciale quindi un abbraccio forte alla regina e al suo piccolo per quanto riguarda il domani il canale al momento è già in netta ripresa ma credo che da qui al futuro ci riserverà tantissime sorprese in positivo perché ha un canale ricco di contenuti interessanti e comunque sono tutti i contenuti che vanno ad accomunare chi vive una situazione uguale paritaria a quella che vive lei adesso poi comunque tutte le dinamiche quotidiane che accomunano poi generalmente un po' tutti noi come lavoro famiglia sentimenti c'è da dire inoltre che con il ricavato o parte del ricavato che le viene compensato da youtube italia ci paga delle cure specialistiche per il suo piccolino e questo le fa solo onore detto questo io quando ho tempo seguo tanti canali su youtube ma in maniera silenziosa nel senso che magari mi seguo la live mi guardo il video che è stato caricato però poi non lascio alcun commento anche perché seguendo solamente un unico video di una persona non riesci a capire com'è quella persona quindi vanno seguiti più video e soprattutto va vista e va valutata la persona in più situazioni poi quando mi sono fatta un'idea in merito alla persona che sto seguendo se è il caso apro un blog faccio un video pro o contro quella persona ma generalmente quando è una persona negativa che non mi piace cioè evito proprio che se è una persona che trovo negativa riportare il nome il canale di quella persona nel mio di canale equivale a sporcarlo quindi andando un po' a tirare le somme quello che era il canale tempo addietro della regina bastarda ve l'ho raccontato quello che oggi lo vedete con i vostri occhi quello che sarà domani dipende solo da lei quindi regina continua su questa strada hai tante persone che ti seguono con affetto e per affetto questo non è da tutti e questa è un'arma a doppio taglio perché se da un lato ti coccoli nel calore dei tuoi utenti dall'altro lato questo genera tanta invidia e quindi ti procurerà ancora tanti attacchi purtroppo youtube è così è ricca di persone invidiose persone che non riescono ad arrivare a determinati livelli e cercano costantemente di denigrare chi ci arriva ma quando ci sono ben oltre 13.000 persone che la seguono costantemente questo qualcosa vorrà pur dire no? e poi fino a poco tempo fa c'era un ammiratore speciale che non la mollava un attimo e c'è il Christian Manzini ora non so se ancora oggi sia lì a farle le post però comunque era molto simpatica la cosa tra i due perché comunque era goliartica la cosa quindi ti faceva anche un po' sorridere cosa dire ragazzi in conclusione possiamo dire che ha un canale generoso la regina è un canale che può dare tanto soprattutto nel futuro deve scrollarsi di dosso l'ombra del passato dopo tutto di errori ne facciamo tutti l'importante è saperli riconoscere metterci un punto e andare avanti in maniera più pulita ovviamente quindi un saluto a te regina per quanto riguarda tutti quelli che rosicano dei livelli da te raggiunti lasciamoli sognare noi ci avviamo seraficamente alla conclusione di questo bellissimo vlog oggi dedicato alla regina bastarda io come sempre vi do appuntamento al prossimo contenuto buona continuazione di giornata un bacio a tutti da gossip